La coltivazione della patata della sila ha origini antiche, ma solo negli ultimi decenni, intorno ad essa, si è sviluppato un positivo sistema economico e produttivo. La zona di produzione della patata della sila comprende esclusivamente i comuni che delimitano l'altopiano, dove la natura dei terreni e le caratteristiche climatiche consentono una crescita dei tuberi costante e lenta. Lo sfruttamento dei suoni silani è estremamente contenuto e la loro irrigazione avviene con acqua disorgente. La patata è l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano, con una rotazione almeno biennale, sullo stesso terreno. La patata della sila contiene vitamina C, vitamina del gruppo B, potassio ed alte percentuali di selenio, minerale importante per la difesa dai radicali liberi. La buccia è resistente e la polpa compatta e l'alta percentuale di amido e di sostanza secca la rendono particolarmente indicata alla frittura. Il legame culturale con il territorio è sottolineato anche dal vasto impiego della patata della sila in ricette tipiche locali, pasta, patata e uova, pasta e patate al forno, pasta, patate e zucchini. La patata della sila si può gustare ovunque, ma volendo scoprirla sul territorio si può fare in una delle manifestazioni ad essa dedicata, come quella di camigliatello silano o di parenti.